Ciao a tutti, mio nome è Enrico e sono italiano Ciao, mio nome è Iris Namaste Ciao, sono Giovanni Bondaro Come sta? Ciao, mio nome è Juan Alega Il mio nome è Suvi Quindi, ho vissuto per 16 anni della mia vita in Italia La mia famiglia è al 100% italiana Momma è un'india e ancora un'india Mi sono un'india e sono un'india La mia famiglia è stata in韓国 La maggioranza è sicuramente la stagione La grande differenza di culturali è l'environmento La mia famiglia è più urbanizzata Perché prima è stato un'india in 2008 La mia famiglia è in Missouri in particolare È più suburbano, più di una famiglia Ma in Korea è più di una città, molto russi Come è in America C'è un'india più struttura in Filippines C'è un'india più opportunità in Filippines È anche un'india più naturale con la polluzione E' un'india più buona E' un'india più buona E' bella più buona La mia famiglia è Miskaso La mia famiglia è air-conditioning Che è Nchi La mia famiglia è Lecheflat I'd say my favorite word is yanyam chicken It has to be me Nenu And I don't know if it's like slang But I think it means like I'm laughing so hard It's the first word I said as a baby I got home and I was like Nenu It's one of my favorite Filipino desserts And I just like the way that it sounds It's my favorite food And it's so, just so fun to pronounce I'm just like, oh me Like if I want something to be like me And I use it like every time Because I love laughing So I'm like, Nenu Then, yeah Yangyam chicken I think it's very important in Taiwan Because I understand that I'm very happy in America Because I have a lot of people in Taiwan And I have to catch up with these things So I don't want to do it I don't want to do it One camp Quindi penso che la cosa di cui noi possiamo andare più fieri E' questo carattere che ci viene trasmesso Basato sul fare ridere le persone e renderle felici Mi piace davvero di essere un Pilipino perché quando sono un Pilipino, ho visto che ho un diversi background. E ho visto che ho offerto il mio background a tutti i miei amici e i miei amici. La lingua è molto importante perché i miei amici sono molto importanti, ma anche altri. Non sono molto importanti. Mi piace molto di un tradizionato in韓国 perché è diverso e divertente. È un po' di più divertente. È un po' di più felice. È un po' di più divertente. Molto di persone vedete che i miei amici e i miei amici è molto più importante. Questo è un po' di più interessante. Perché mi sono piaciuto, perché mi sono piaciuto perché ho pensato che ci sono qui. E ora mi sono piaciuto, perché ho visto un po' di più. Perché ho un po' di più. E ho un po' di più. E ho visto qualche sign that the students sono per favorezza. E ho visto la sign that I metto da diversità. Quindi è buono che hanno affermato che c'è molto più di signato. Per esempio, forse ho visto che sono diversi. Lo ha studiato per non oppure la lingua. Non ho aspettato che altre persone comprendono le nostre tradizioni, ma è solo un parte di chi I am, quindi sono felice di avere. Penso che non sono abbastanza per l'America, ma anche se non sono abbastanza per l'Italia, quindi sono giusto per l'Italia, quindi sono giusto per l'Italia. Penso che le persone devono imparare, devono essere orgogliosi di quello che sono, non devono essere bambi di quello che sono, ma anche se non devono essere bambi. Per l'Italia che non devono essere bambi di quello che è. E' tutto questo. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Ciao.